Palafitta abusiva sul fiume Brenta, il manufatto è stato rinvenuto a Valle del Ponte di Friola, in comune di Tezze, dopo la segnalazione di un privato. Si ipotizza che sia stata utilizzata in questi giorni come area di svago, vista la presenza di tavolo, sedie di plastica, bracere e bidone di ferro, presumibilmente usato come barbecue. Il personale del comando stazione del Corpo Forestale dello Stato di Bassano ha effettuato vari appostamenti, cercando di individuare i responsabili della costruzione in una zona definita di interesse paesaggistico e quindi sottoposta tutela. Purtroppo in quel periodo nessuno si è presentato, tanto che hanno provveduto a procedere penalmente contro i gnoti e a sequestrare l'area, senza la possibilità però di rimuovere il materiale presente, visto le recenti piogge che hanno ingrossato il fiume e inondato il sito. In caso di rimozione dei sigilli, i trasgressori saranno deferiti all'autorità giudiziaria competente e puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.